Musica Bentrovati a questa nuova puntata di Flash Job in studio con me, Simone Carotti, titolare dello studio Carotti Associati. Bentrovati a tutti voi. E torna a trovarci, come avevamo già anticipato, Giacomo Camilletti, presidente della Fondazione IRCE, rassunta di Recanati. Bentrovato. Grazie a voi. Avevamo già anticipato, spoilerato, come direbbero i giovani oggi, che oggi avremmo parlato di futuro della Fondazione. Simone, brevemente, gli argomenti trattati nella scorsa puntata. Innanzitutto colgo alcune questioni molto importanti, perché poi il dottor Camilletti ha fatto una relazione molto precisa. La scorsa puntata, ovviamente, la IRCE assunta di Recanati è una residenza protetta per anziani, molto importante. E' la cosa bella che mi ha colpito l'altra volta che il dottor ha parlato innanzitutto di organizzazione, quindi di organizzazione, di valutazione e soprattutto di cura dei propri clienti, che appunto sono gli anziani. E' del fatto che anche delle parti, degli eventi, diciamo ludici, potevano far ripartire. Questo mi colpisce perché sono tutte le cose che servono a un'azienda normale, di quelle di cui parliamo tutte le volte, la stessa cosa. Quindi organizzazione, valutazione del cliente e soprattutto momenti di svago per poi riprendere bene tutto quello che è l'organizzazione, poi ferrea e soprattutto molto di accoglienza che ha la residenza IRCE rassunta. Con piacere ripasso la parola al dottore poi per che ci dà qualche altro spunto. Quindi dottor Camilletti veniamo a noi, il futuro della fondazione, abbiamo raccontato quello che è stato fatto durante il suo mandato, adesso progetti futuri e linee di indirizzo strategico. Prego. Grazie. Diciamo che è fondamentale indirizzare la fondazione, l'IRCE in prospettiva futura su quelli che possono essere i servizi da offrire ai nostri ospiti. Però c'è un'esigenza ancora più sentita dai residenti di Reganati, avere la disponibilità di un posto letto per i propri cari che hanno delle esigenze di assistenza maggiori. Con tanto disagio e dispiacere abbiamo delle liste di attesa per nuovi e per far entrare nuovi ospiti nella nostra residenza lunghissime. E purtroppo veramente sentiamo il disagio, la direzione, il personale, noi del Consiglio di Amministrazione, sentiamo il disagio di dover dire che non possiamo ospitare l'anziano perché non c'è posto. E così abbiamo iniziato a lavorare con i nostri tecnici, abbiamo dato degli incarichi per capire se potevamo ampliare le nuove entrate. E così è stato fatto. Abbiamo predisposto dei progetti, rispettando quelle che sono le norme, nella normativa regionale, quindi nel rispetto della normativa regionale sanitaria, abbiamo previsto, con delle ipotesi, addirittura il raddoppio dei posti letto. Questo sarebbe un obiettivo incredibile. Devo dire che l'amministrazione comunale, l'attuale nostro sindaco, ci ha supportato e ha sottoscritto insieme a noi la richiesta che è stata inviata con tanto di progetti, con tanto di schemi, di disegni tecnici, è stata presentata al servizio sanitario nostro di competenza. Quindi auspichiamo che venga accolta questa nostra richiesta e quindi auspichiamo che venga accolta questo nostro progetto a cui crediamo tantissimo. Come crediamo tantissimo? All'altro progetto di implementare momenti di socialità, eventi. Devo dire che abbiamo avuto la vicinanza del Rotary Club, abbiamo avuto la vicinanza del Lion, secondo le donazioni, lo stesso il Rotary, abbiamo avuto la vicinanza delle associazioni di volontariato e auspichiamo che anche altre associazioni vengano nella nostra struttura a dare il loro operato, il loro ausilio, la loro disponibilità. Basterebbe poco. Un contributo, come diceva alla fine in chiusura di trasmissione, dottor Camilletti. Noi siamo qui, parliamo di lavoro e a questo punto parliamo anche di risorse umane. Già, insomma, so più o meno che cosa risponderà. Quanto sono importanti le risorse umane nella vostra realtà? Essenziali, assolutamente essenziali. Io mi sento di dire due cose fondamentali. Innanzitutto, la fondazione, l'organo di governance e la direzione ha voluto sempre condividere con la forza lavoro interna ed esterna, perché abbiamo anche delle società esterne, delle Ollus, che collaborano con noi mediante l'esplendamento di servizi. E' il personale interno, che siano OS, che siano personale infermieristico e medici. E' necessario, e questo l'ha voluto la fondazione, condividere i progetti, i progetti di sviluppo, i progetti di crescita, l'indirizzo della fondazione. Dove andiamo? Quello che vogliamo fare? Le sfide che ci sono state messe davanti? La legge regionale è stata una rivoluzione copernicana. L'abbiamo volute condividere e lo stiamo facendo tuttora. L'altro aspetto, secondo me, fondamentale, la formazione. Non si può raggiungere obiettivi, sfide, percorrere una strada, se non ci si forma. La formazione è fondamentale per tutti. Simone, le risorse umane, il tuo pane quotidiano, come commenti le parole del dottor Camilletti? Mi viene solo a dire un grande grazie, soprattutto per i consigli che ci ha dato e che vi invito ad andare a risentire, perché è fondamentale. Pensate voi, no, nell'importanza delle risorse umane in ogni realtà, come appunto diceva il dottore, quello sempre. E pensate, in una realtà come questa, cosa significa? Certo la produttività, certo l'organizzazione, ma anche la capacità di stare davanti a un anziano con le sue patologie e cercare di renderlo, come diceva nella puntata scorsa, vivo e presente. E quindi questo qui è fondamentale. Quindi direi l'importanza delle risorse umane, in questo caso moltiplicata all'ennesima potenza. Io ringrazio i miei ospiti, partendo da Simone Carotti, titolare dello studio Carotti Associati, grazie per essere stato con noi. A voi, a presto. E ringrazio ovviamente il presidente Giacomo Camilletti, presidente appunto della fondazione IRCER, assunta di Recanati, grazie mille. Grazie a voi dell'opportunità. E adesso il consueto spazio dedicato agli annunci di lavoro di MediaWorks Ancona. Grazie Maria Pia. Vediamo subito qual è l'annuncio di questa settimana, ricordando come al solito che i nostri annunci sono ovviamente rivolti ad ambo i sessi. Cerchiamo un tecnico di laboratorio. Per storica azienda elettromeccanica, produttrice di beni di alta gamma, siamo alla ricerca di un tecnico di laboratorio da inserire in organico. Requisiti richiesti Diploma o laurea triennale in elettronica Conoscenza degli schemi elettrici e loro lettura Esperienza nel disegno CAD elettrico Dimestichezza con gli strumenti di misura Amperometro, frequenzimetro, ecc. Conoscenze hardware, circuiti stampati, schede elettroniche, chip, componentistica varia, ecc. Capacità di fare piccole saldature a stagno, buona manualità in generale. La figura verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico, che comprende anche il laboratorio e la ricerca e sviluppo. Vediamo quali saranno le principali manzioni. Riportare su CAD i vari progetti Lavorare su circuiti e schede per effettuare prove e o modifiche Utilizzare i vari tester Contribuire alla realizzazione dei prototipi Collaudare Interfacciarsi con progettisti e ricerca e sviluppo durante le varie fasi di lavoro Valutiamo sia persone con esperienza che giovani volenterosi da formare purché abbiano le basi elettriche e elettroniche su cui costruire la loro futura professionalità Orario di lavoro full time giornaliero, nel dettaglio sarà 8.13.14.17 Inserimento è il base al contratto della metalmeccanica industria tramite apprendistato Tempo determinato o indeterminato A seconda della situazione del candidato scelto La retribuzione iniziale sarà circa di 1.300 euro netti mese per i profili più junior Il luogo di lavoro è ad Ancona Ed anche per questa settimana ho terminato Ti ripasso la linea Maria Pia Bene Alessandro, ti aspettiamo la prossima settimana Con grande piacere, come sempre, un caro saluto a tutti voi E anche a voi do l'appuntamento alla prossima puntata di Flashjob Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sorrisi